Salve dorso turisti questa è la presentazione del video del raduno 2019 a distanza di dieci anni dal primo raduno che abbiamo fatto il 2009 faremo questo raduno il posto sarà l'Abruzzo come la prima volta Scallo più precisamente dopo la sigla tutte le info per quello che riguarda il dorso raduno ci ritroviamo ancora per parlare di questo raduno sul luogo dell'incontro il benzinaio Petroli Italia a 200 metri dall'uscita di Celano ci ritroveremo il 3 agosto tutti quanti per partire per questo giro per l'Abruzzo Pesca Sero, Livio e Tabarrea Scanno in grandi linee ora farò anche un giro delle riprese dalla moto e vedrete un po' i paesaggi in descrizione c'è il link dell'evento con tutte le informazioni che vi servono il logo è questo la maglietta chi vuole se la può fare basta che prenda il disegno il jpeg dall'evento dell'immagine dell'evento e se la stampa sulla maglia 2 euro e 50 la maglia decano 7 euro e 50 ok che ti metterò sotto e 7 euro e 50 la stampa sulla maglia quindi una cosa facile e accessibile per tutti non ci dobbiamo guadagnare niente lo facciamo per passione e passa ora partiamo per il giro vedrete qualche immagine del tour e più in là vi dirò altre cose sempre del raduno tappa Pesca Sero qui stiamo a Pesca Sero sempre il giro pre-raduno per organizzare per vedere il visuale in Pesca Sero questo è il visuale proseguiamo per le tappe così riorganizziamo tutto ci vediamo il 3 agosto 3 agosto con le foto siamo arrivati a Scanno sono le papare incazzose sono incazzose proprio voglio apprezzo proprio va bene siamo qui a Scanno che è dove sarà la tappa del ristoro dove mangeremo tutti insieme poi ci organizziamo un po' sul momento cosa vogliamo fare sul paneo il ristorante pranzo libero diciamo così riusciamo a stare insieme su questo prato ci aggiunghiamo un po' fuoco il posto per chi lo conosce il famoso lago a forma di cuore di Scanno più avanti c'è un altro posto che si chiama Villa Lago che è un altro bell'ago nel caso avremo tempo che ci fermeremo pure lì e poi faremo delle foto sul posto dove l'abbiamo fatto 10 anni fa il 2 agosto 2009 Questa è quanto, altre info giù al punto di salita. Siamo ad Anverso, il punto dove dieci anni fa abbiamo fatto l'incontro, abbiamo fatto una foto che ora vi mostrerò. L'incontro dove eravamo i primi sei dorso turisti che abbiamo fatto questo incontro, erano tre di Roma e tre di Trescala e oggi dopo dieci anni riproviamo a fare questo incontro. E dentro il Torso Raduolo, trovate tutto nel link in descrizione oppure mettete su Facebook hashtag Torso Raduolo. Spero che il giro vi sia piaciuto, anzi ultime cose, per chi vuol proseguire il giro il giorno dopo del giro trovate anche in descrizione che si dormirà in pista ad Ortona, il giorno dopo faremo un giro nei travocchi e un mini corso di guida nella pista di Ortona. Questo è quando ci vediamo il 3 agosto 2019. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!